La pioggia questa mattina ha posticipato l'attesissima processione del simulacro con le reliquie di Santa Lucia a bel passo nel giorno della solennità della Santa Patrona. Alle 9.30 in Chiesa Madre è stata celebrata la Santa Messa preseduta dal parroco Don Nunzio Mauro Chirieleison, ma al termine della celebrazione eucaristica la processione ha dovuto attendere l'avvio a causa delle avverse condizioni meteo. L'uscita della Santa Patrona è avvenuta intorno a mezzogiorno per affrontare il percorso cittadino. Il miglioramento delle condizioni meteo ha dunque permesso di far rispettare il crono programma della festa con la processione che si è tenuta anche nel pomeriggio come previsto. Domani mattina le 10.30 sarà l'Arcivescovo di Catania Monsignor Luigi Renna a presiedere il solenne pontificale nel giorno della devozione popolare. Anche la Chiesa Madre di Biancavilla ha festeggiato oggi Santa Lucia. Due messe sono state celebrate nel corso della giornata nel ricordo del martirio della Vergine Siracusana avvenuta nel 304. Santa Lucia viene invocata come protrettrice della vista in seguito ad un miracolo. Secondo la tradizione infatti le vennero cavati gli occhi ma il Signore le fece riacquistare immediatamente la vista. Nella Basilica oggi per l'occasione è stato posto nel transetto il simulacro settecendesco della Martire e al termine delle sante messe sono state impartite particolari benedizioni ai fedeli raccolti in preghiera.